Hello and welcome back to Joe English. Oggi io voglio insegnarvi i verbi causativi, causative verbs. E come solito io uso i sketch per mettere tutto in contesto così è molto più facile a capire e imparare. Let's go! In inglese ci sono diversi causative verbs, però io voglio concentrare su quattro. Get, make, let e have. Iniziamo con la differenza tra get e make. Vediamo questo sketch. Ok, no problem! Ok, pensate bene al contesto perché adesso dobbiamo vedere questo sketch. James, would you like to do the washing up? N-O-no. Do the washing up or you can never play on the PlayStation again. Oh dad, that's not fair! Ok, nella prima io ho detto I got James to do the washing up. E nella seconda ho detto I made James do the washing up. Quindi io ho cambiato solo una parola. Get e made. Però queste due cambiano completamente il contesto. Prima di tutto vediamo un attimo la struttura. Perché noi dobbiamo sempre iniziare con il soggetto. Poi il causative verb. Poi si chiama agent. Cos'è agent? Agent è la persona che sta facendo l'azione per te. E poi finalmente abbiamo il verbo. Vedi, l'unica differenza è che dopo get dobbiamo usare to più l'infinito. Invece con make non dobbiamo mettere to. Ok, quindi quali le differenze tra get e make? Si usa get quando l'hai convinto qualcuno di fare qualcosa. Per esempio la prima James non voleva lavare i piatti. Ma io ho detto dai ti do un cioccolato. Quindi lui ha detto va bene. Quindi io l'ho convinto di fare. Quindi io devo dire I got James to do the washing up. Perché l'ho convinto. Invece la seconda ho detto Ho usato il verbo make perché io l'ho costretto di fare qualcosa. Non c'era opzione. Perché io ho detto se non lo fai non puoi usare il Playstation. Quindi c'è molta differenza tra convincere qualcuno di fare qualcosa e poi costringere qualcuno di fare qualcosa. Vediamo un altro paio di esempi. Io farò mettere in ordine a Eddie più tardi. Lo costringerò di farlo. Quindi Adesso l'ho usato al presente progressivo. Quindi la cosa importante è che quando noi vogliamo cambiare il tempo verbale dobbiamo cambiare il tempo verbale del causative verb. Il verbo principale rimane così all'infinito. Ok adesso vediamo l'uso di get in un altro tempo verbale. Eddie mi ha chiesto di riparare le cuffie però purtroppo io non so fare. Quindi Ho detto Ok spero che la differenza tra get e make è abbastanza chiara adesso. Si usa get quando vogliamo convincere qualcuno di fare qualcosa. E si usa make quando vogliamo costringere qualcuno a fare qualcosa. Quindi sono completamente diverse. Adesso vediamo let e come si usa. Oh James let me see. Ok look. Avete visto? Io ho detto a James let me see. Fammi vedere. Io sto chiedendo permesso da James di vedere il telefono. Quindi si usa let per dare o chiedere permesso. Vediamo un altro esempio. Dad? Yeah? Can I play on the computer? I'll let you play on the computer if you do your homework. Ok? Ok. Perfect. Perfect. Quindi di nuovo ho usato let. Ho detto a James I'll let you play. Io ti darò permesso di giocare se fai i compiti. Un altro esempio. Quindi James vuole sapere perché Eddie sta giocando sul computer. E io ho detto I let him play. Io ho dato permesso a lui di giocare. Quindi di nuovo abbiamo usato let. Ricordatevi però let's si può usare per un suggerimento. Per esempio Andiamo al cinema. Oppure let's eat. Mangiamo. Adesso però stiamo usando let in un contesto un po' diverso. Non stiamo usando let per chiedere o dare permesso. Stiamo usando let per un suggerimento. Quindi è solo un altro uso della parola let. Ok. Adesso velocemente voglio fare un confronto tra make e let. Perché spesso gli italiani si confondono tra queste due. Guarda questo. E poi fare un confronto con questo. Avete visto? L'umore di Eddie era molto diverso quando abbiamo usato let e make. Questo è perché di solito quando si usa let stai dando permesso a qualcuno di fare qualcosa e quindi loro sono felici, sono contenti di fare questa cosa. Invece con make la persona che fa l'azione è costretta di farlo e di solito non vuole. Ok, ancora però non ho spiegato have. Have non si usa per dare permesso come let. Non si usa per convincere qualcuno come get. E non si usa per costringere qualcuno come make. Have si usa in generale per dire che qualcun altro sta facendo un'azione per te. Però adesso non viene usato molto. Perché adesso have si usa solo nei contesti formali. Per esempio, al lavoro si può dire Siccome questa è una situazione abbastanza formale, si può usare have. Oppure sai quando vai in un albergo e loro dicono Ovviamente è un causative verb, quindi dobbiamo seguire sempre la stessa ordine. Subject Causative verb Agent Spesso però noi non vogliamo specificare the agent, sai chi ha fatto l'azione, perché non c'è bisogno. In questo caso è al passivo e si usa get e have spesso al passivo. Per esempio Yeah I'm having my hair cut now Oppure I'm getting my hair cut now Are you ready sir? Qui non c'è bisogno di specificare chi sta facendo l'azione. È ovvio chi deve tagliare i capelli. Barbiere. Quindi noi possiamo usare oppure get o have al passivo. Però una cosa importante. Quando si usa get e have al passivo cambiano un po' il significato perché have non è più formale non c'è proprio differenza tra get e have. Noi abbiamo visto prima che get si usa per convincere qualcuno. In questo caso non devo convincere nessuno perché sto pagando. E anche non è una situazione formale perché di solito have si usa in una situazione formale. Si usa solo per spiegare che qualcun altro sta facendo o ha fatto un'azione per te. Spero che è stato utile. See you next time.